Benvenuti, benvenuti in questa nuova diretta e abbiamo stasera come ospite l'illustrissimo Davide Rozzoni. Ciao Davide, buonasera. Ciao Michi, ciao a tutti. E allora aspettiamo un po' che arrivino i partecipanti, piano piano stanno arrivando un po' tutti quanti. Ci siamo. Mi date conferma che si sente bene l'audio e si vede il video, per favore? Ecco, Anni, buonasera esploratori, buonasera a tutti. Allora, io direi che possiamo già cominciare perché già siamo un bel numero. Allora, innanzitutto saluto Davide Rozzoni che è ospite questa sera. Ciao Davide. Grazie Michi, ciao, buonasera a tutti. Davide, sapete che è trainer del Morro Institute e già da svariati anni, dal 2014, ed è anche traduttore, che svolge un'attività di traduzione molto molto vasta di libri. Sapete che si è occupato anche di Bruce Moen, ha scritto, ha tradotto i libri di Bruce Moen. E questa sera ci vuole presentare un nuovo libro, un nuovo libro che ha tradotto. Raccontaci un po', Davide, raccontaci un po' come è nato il tuo interesse, insomma, per tradurre questo libro e spiegaci un po', dai. Allora, Michi, io mi sono imbattuto nel libro originale in inglese qualche anno fa. L'ho letto e, come si suol dire, sono rimasto fulminato. Sono rimasto profondamente colpito dalle storie, dalle narrazioni, da tutto quello che Caroline di Dorothea Larsen raccontava in questo libro. Ho desiderato che questo libro potesse essere a disposizione dei lettori italiani. Però poi, per una ragione o per l'altra, è passato del tempo. Poi ne ho parlato con Edelweiss, l'altra traduttrice, e gli ho detto ma perché non lo traduciamo, questo più o meno l'anno scorso. Ci siamo messi, abbiamo iniziato tutta l'opera di traduzione, e siamo arrivati alla fine con qualche difficoltà tecnica, non tanto di traduzione, ma proprio difficoltà pratica nell'impaginare il libro, nel mettere i numeri di pagina, insomma cose molto pratiche. E lì eravamo veramente in enorme difficoltà. Poi è venuta a salvarci Nicoletta, che è la co-traduttrice dei libri di Bruce Moen, e ci ha dato un aiuto importante, e quindi siamo riusciti a, il 18-20 gennaio, insomma qualche giorno fa, a pubblicare quest'opera. Questa è un po', diciamo, la storia che c'è dietro questo libro. Allora, si tratta comunque di un libro bello datato, diciamo, l'originale, quindi anche vecchio, insomma, no? Allora, il libro è stato scritto e pubblicato nel 1927 negli Stati Uniti, da questa Caroline D. Larsen, che era una signora danese che si è trasferita con il marito negli Stati Uniti e più o meno all'età di 50 anni ha cominciato ad avere delle esperienze fuori dal corpo tradizionali e spontanee. Questo è di particolare interesse per tutti quanti, apro un piccolo inciso, perché Robert Monroe, il famoso viaggiatore esterale, è iniziato a esplorare fuori dal corpo, ad avere esperienze, obbio, a 43 anni. Questa signora, Dorothea Larsen, Caroline Dorothea Larsen, ha 50 anni. Quindi c'è speranza per tutti. C'è speranza per tutti. Sempre. Beh, innanzitutto è ammirevole il fatto che ti sei messo a tradurre una cosa che nessuno ha mai tradotto e la cosa che mi piace di te, insomma, è dire, ok, io nessuno, sai che ti dico, nessuno lo traduce, lo traduco io. Quindi anche con Bruce Moyne è un po' è stato così. Quindi, se non... Perché erano talmente bello, ne valeva veramente la pena per chi, diciamo, ha letto Bruce. Tutti aspettavano che qualcuno lo traducesse e alla fine tu ti sei deciso, hai detto, senti, ci penso io, quindi tu e Nicoletta vi siete messi a farlo. Ed è ammirevole anche questa autrice che io non conosco. Parlaci un po' di, diciamo... Sì, allora, innanzitutto questo è un libro relativamente sottile, di poche pagine. Ve lo faccio vedere qua. Ecco, questo è il libro ed è un libro che di pagine, vediamo se si riesce a far vedere anche il profilo, qui è difficile, eccolo qua. Sono cento... Libretto. Sono centoseidici pagine, sì. Cioè, rispetto ai volumoni di Bruce Moen o anche di Robert Monroe, questo è un libretto molto, molto sottile. Ma questo non ci deve entrare in inganno, perché è un libro estremamente intenso, ricco di esperienze. L'autrice specifica chiaramente all'inizio che le racconta solo, uno, quello che ha vissuto personalmente e, due, non ha nessuna intenzione di gonfiare questo materiale per farlo diventare un librone. Certo. Quindi fondamentalmente è un diario. Subito sull'essenziale, quindi. Subito sull'essenziale. Esperienze, esperienze, esperienze. Quello che accade qui è che con l'ausilio di una guida lei viene condotta in esplorazione nei territori dell'aldilà. E quindi ha la possibilità fuori dal corpo di incontrare una gran quantità di defunti. sia persone che ha conosciuto lei personalmente durante la sua vita, quindi amiche, conoscenti e altre persone, ma anche personaggi famosi di quel periodo storico in cui lei ha vissuto questa esperienza che sarebbe il 1910, o anche personaggi storici che ha avuto modo di incrociare. Ecco, quindi fondamentalmente questo è un diario di esperienze. La mia impressione è che lei abbia vissuto molte altre esperienze per le quali però non ha ricevuto l'autorizzazione di pubblicare. Questa è la mia impressione, che ci sia molto, molto, molto di più. Però questo è quello che è arrivato fino a noi oggi. Questa signora, per quanto ne so io, ha scritto solamente questo volumetto, che tra l'altro Sir Arthur Conan Doyle, che è il creatore di Sherlock Holmes, ha dichiarato, ritengo, che questo libro sia prezioso. e anch'io mi aggrego a questa considerazione di Sherlock Holmes. Quindi sono tutte esperienze in varie dimensioni, vari stati vibrazionali nel mondo dell'aldilà, nonché svariati incontri con defunti che sono rimasti in qualche misura legati alla terra, legati dalle loro credenze, dai loro attaccamenti e quant'altro. E qui proprio ce ne sono tantissime di questo tipo di descrizioni e tutte estremamente affascinanti e interessanti, insomma. Bello, veramente. E' bello anche come in quell'epoca si parlava di queste, non credevo che ci fosse molto su questo argomento, diciamo, che stiamo parlando del 1927, quindi è singolare. Guarda, la cosa straordinaria è che tutte le narrazioni che lei fa potrebbero tranquillamente essere state fatte da uno di noi, da un contemporaneo, da un nostro contemporaneo. Proprio perché non c'è niente di fuori dai tempi o di antico, di vecchio, ma è tutto di estrema attualità. E questa è una delle ragioni per le quali abbiamo deciso di portare questa opera al pubblico italiano, proprio perché è di estrema attualità. E tu hai notato anche come le esperienze più contemporanee, quindi di autori contemporanei, come può essere, che so, William Bullman, coincidono oppure c'è una diversità rispetto a un'esperienza che ci può essere stata parecchi anni fa? Quindi cambia qualche cosa, anche essendo diverso il periodo storico oppure ci sono delle similitudini più o meno con la... Sì, allora faccio una premessa importante, è la premessa della prospettiva. Provate un attimo a seguirmi in questo ragionamento. Allora, immaginiamo, immaginate voi ascoltatori, che io e Michele siamo due extraterrestri che vengono da un pianeta lontanissimo e decidiamo entrambi, indipendentemente uno dall'altro, di venire a esplorare la Terra per la prima volta. Quindi veniamo da un pianeta pianeta estremamente remoto, ok? Io arrivo nelle prealpi orobiche, nella Bergamasca, arrivo in montagna, in un paesino di 20 anime e trascorso, senza farmi notare, senza farmi vedere, trascorro qualche settimana in quell'ambiente, ok? Sono sulle montagne tutto il giorno, nei boschi, ogni tanto vedo qualche persona che si muove un pochino, 20 anime, soprattutto persone anziane. Dopodiché torno nel mio pianeta di origine. Michele arriva anche lui da questo pianeta e dove arriva? Michele arriva a New York City, ok? Arriva a New York City, ovviamente non si farà vedere, ovviamente Michele nota che cosa? Grattacieli meravigliosi, pianura, milioni di persone, cioè centinaia di migliaia di persone, grande confusione tutto, perfetto. Michele resta una settimana, dieci giorni a New York City, poi torna nel paese di origine. Io e Michele ci ritroviamo sul nostro, nel nostro pianeta e iniziamo a dialogare, anzi si aggiunge anche una persona che non è mai stata sulla terra e che ci fa domande. Allora comincia a chiedere a Michele, Michele com'è la terra? E Michele dice, una confusione, ci sono questi edifici altissimi, gran confusione, pieno di gente da tutte le parti. Io lo guardo stupito e gli dico, ma che stai dicendo? ma cosa stai dicendo? Non c'è un cane, c'è tantissima natura, boschi, montagna, una persona qui, una persona alla sparsa. E allora Michele dice, ma che stai dicendo? Ho capito, il discorso della prospettiva è fondamentale. Quindi, i contributi che hanno dato, che ne so, Morro, Pullman, Raduga, Mohen alla conoscenza dell'aldilà è importantissima, ma è comunque per sua natura limitata a delle prospettive. Certo, certo. Ecco, quello che fa la Larsen è aggiungere un gran numero di esperienze personali che ampliano questa prospettiva, questa conoscenza e poi dà anche delle ulteriori conoscenze. Ora, mi spiego e arrivo diciamo nel vivo di quello che mi ha colpito di questo libro. Probabilmente molte persone che ci stanno seguendo adesso, che vedranno questa nostra diretta indifferita, avranno visto il film Nossolar. Diciamo che per chi è interessato di al di là, Nossolar è uno dei film importanti sull'argomento. Chi ha visto il film Nossolar si ricorderà che per alcuni momenti, per alcuni minuti, fa la sua apparizione a Nossolar la mamma del protagonista di Andrè. La mamma del protagonista, ma si capisce chiaramente che proviene da una dimensione più elevata, superiore. Non appartiene a Nossolar, lei è sopra Nossolar da qualche parte, ha anche una sorta di velo sulla testa con dei fiorellini. Ecco, quando io ho visto Nossolar mi ha affascinato incredibilmente quella figura e loro ho detto già Nossolar è tanto che poi nel linguaggio del Moro Institute è equiparabile a Focus 27 se vogliamo. Ma mi ha affascinato tantissimo la dimensione nella quale presumibilmente viveva la mamma di Andrè. Che cosa si sa di questa dimensione? Che cosa è questa dimensione? Dov'è questa dimensione? Ho trovato pochissimo, quasi niente. Ma Caroline Dorotea Lars nel suo libro secondo la mia comprensione esplora anche questa dimensione più elevata rispetto a Nossolar. Ora, sia chiaro, io sto presentando questo libro ma vi sto dando anche la mia comprensione e interpretazione. Poi qualcuno potrebbe anche opinare queste mie prospettive, per carità. Ora, lei spiega anche quali sono queste dimensioni più elevate e nel libro spiega anche le caratteristiche che hanno gli esseri che dimorano in queste dimensioni più elevate e quindi fornisce delle chiavi per poter accedere a quegli stati. e poi ecco c'è un'altra cosa che io trovo che è quella che mi ha lasciato a bocca aperta cercherò di dire senza dire perché non voglio spoilerare in alcuna maniera il contenuto. Ecco dopo aver descritto quella dimensione diciamo oltre Nossolar oltre Focus 27 parla anche nell'ultimo capitolo del libro parla anche di un'altra dimensione di un altro stato che è ben oltre ben oltre Focus 27 ben oltre quello stato che ho citato qualche attimo fa e quella descrizione personalmente mi ha lasciato completamente a bocca aperta al punto che mi ha stimolato delle riflessioni delle considerazioni che poi ho inserito nel libro nella postfazione ovviamente anche lì sono è la mia comprensione e prospettiva delle cose non è la verità però quello che ho letto nel diciamo nella seconda parte del libro è qualcosa che supera le mie più vivide fantasie e immaginazioni è qualcosa davvero di straordinario e poi c'è un capitolo specifico del quale anche qui dirò lo stretto indispensabile una esperienza nella quale Caroline insieme alla guida vanno in visita alla terra dei bambini e anche questo è estremamente affascinante perché ci sono i bimbi che sono che sono morti da bambini e però questo questo voglio dirlo non vado a spoilerare in alcun modo il contenuto di quel capitolo però visto che sicuramente tra le persone che o ci stanno ascoltando o ci ascolteranno c'è qualcuno che ha perso qualche piccolino o piccolina ecco è una 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 dimensione meravigliosa veramente meravigliosa e lei la descrive la descrive in maniera puntuale e precisa quindi ecco tutte queste cose messe insieme mi hanno dato non lo so questo libro ha contribuito a farmi fare un cambio di paradigma sapete quando nella vita ci sono quelle esperienze che ti fanno fare click ecco quando fai click hai fatto quel saltino ecco la lettura di questo libro tra l'altro io e Edelweiss ce lo siamo letti diverse volte in queste ultime settimane per togliere i refusi gli errorini quelle cose lì e e a fuori di leggerlo mi ha riportato in una prospettiva di evoluzione personale di perché io sono qui perché questa vita terrena e dove sto andando in quale direzione sto andando cioè dopo che me ne sono andato qui ok non solar focus 27 benissimo sono fasi di passaggio ma è il viaggio continua e in quel libro mi è stata data una possibilità una una visione di questo possibile futuro possibile sia chiaro possibile una prospettiva questa lettura mi spinge a lavorare su me stesso ancora di più di quello che ho fatto fino adesso perché non c'è alcun sostituto all'evoluzione personale e questo libro pone l'accento su questo su questo concetto chiedo anche a edel vice che sta leggendo che ci sta ascoltando se ha qualche commento da aggiungere a quello che sto dicendo di metterlo in chat per cortesia che lo leggeremo sicuramente e e poi ecco micchi posso posso rubare un minuto per leggere il contributo di edelweiss benvenga ringraziamo anche edelweiss insomma ha fatto veramente una una bellissima cosa nel contribuire a questa traduzione e vediamo anche se c'è hai proprio un messaggio suo sì 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 l'ha scritto affinché io potessi leggerlo questa sera allora buonasera a tutti dice queste sono le parole di edelweiss e non sono le mie personalmente considero questo piccolo libro un gioiellino non solo per il suo formato ma per la ricchezza dei contenuti per la semplicità e al contempo la profondità degli stessi e per il suo valore storico se consideriamo l'epoca in cui l'autrice ha vissuto queste esperienze e le ha trascritte e pubblicate possiamo così confrontarle con quelle che vengono vissute attualmente dai viaggiatori astrali e renderci conto di quanto possano o meno incidere su certi vissuti la cultura dell'epoca a cui si appartiene e o le proprie credenze soggettive oltre che della realtà anche oggettiva di quel mondo e di molte delle caratteristiche che gli sono proprie mi piace pensare che la Larsen non si aspettasse che il suo resoconto che può considerarsi un suo diario sarebbe stato un giorno tradotto in un'altra lingua e che oggi da quel mondo del quale tanto tempo fa ha descritto le meraviglie di cui ebbe l'opportunità di fare esperienza quindi che lei oggi sia contenta che esso sia approdato in Italia ringraziamo di cuore la nostra amica Robertina Nicoletta per il determinante aiuto che ci ha dato in fase di impaginazione senza il quale probabilmente non saremmo già qui stasera a poterne parlare ci auguriamo che lo leggerete con piacere e che sia per ognuno fonte di riflessioni nuove comprensioni e ispirazione verso l'alto grazie per l'attenzione Edelweiss grazie Edelweiss grazie anche ecco di nuovo anche a Nicoletta perché per il contributo che ha dato e vi ringraziamo veramente sia a te che a Nicoletta e veramente state facendo una bellissima opera di traduzione soprattutto in questi ultimi anni sono venuti alla luce insomma proprio dei gioiellini come già ha detto giustamente anche Edelweiss perché evidentemente nessuno aveva mai portato alla luce queste importantissime modi prospettive a modi di vedere quindi diciamo che un po' quello che distingue questo libro dagli altri è il contributo in termini di conoscenza che dai nel vedere una cosa da un'altra prospettiva allora sì sì da delle altre prospettive in alcuni punti la sua prospettiva è diversa da quella di Morro Moen ma benvenuta sia perché è uno stimolo per chi legge per andare personalmente a trovarsi le risposte come giusto che sia io quando mi quando mi trovo davanti questo tipo di libri io trovo veramente un grande stimolo un grande poi desiderio di esplorare esplorare non c'è miglior cosa che la propria esplorazione esplorazione individuale esattamente esattamente perché sono tutte esperienze di altri che sono filtrate dalle loro credenze in qualche misura per cui ogni persona può andare e cercare le proprie risposte questa è la parte più affascinante di tutto per me queste letture sono degli stimoli e la Larsen per me è stata ed è uno stimolo incredibile a continuare la mia evoluzione personale a non fermarmi perché ci aspettano delle delle realtà estremamente dinamiche luminose e gloriose oltre ogni dire e sia chiaro il contributo della Larsen non ha nulla di religioso e questo questo è importante perché non è un libro di religione questo in alcuna maniera è un libro di esperienze e non parla di tecniche obe anche questo deve essere chiaro se vogliamo conoscere tecniche obe veramente il mio suggerimento leggete il libro di Michael Radoga The Phase usate anche gli emisync specifici per le obe che vanno insieme ma questo non è un libro di tecniche è un libro di esperienze proprio fitto 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 vediamo se riesco a far vedere qualche pagina non lo so ci provo fitto 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 di no si vede niente proprio niente si qualcosina si vede si però fitto 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 è importante avere sempre nuovi simoli e nuove prospettive perché alla fine io almeno vi racconto un po' la mia esperienza ogni volta che perdo colpi che magari perdo stimoli o magari sono un po' demotivato prendo un libro prendo un libro nuovo e quello mi dà la carica e quindi è importantissimo perché il libro ti dà proprio un libro nuovo ti dà una carica incredibile il fatto di vedere nuove cose è come se si attivasse una scintilla dentro se si riattivasse perché noi ci dobbiamo continuamente rinnovare l'intento non è un qualcosa che di automatico l'intento è qualcosa che dobbiamo noi far crescere e lo facciamo anche curiosando cercando cercando nuovi simoli e leggendo cose nuove quindi ben venga io non vedo l'ora di leggerlo questo Davide quando allora credo è già uscito vero? dicevi che già era stato pubblicato allora il libro è uscito questa settimana ed è disponibile unicamente sottolineo unicamente su Amazon ah ok ottimo quindi abbiamo fatto abbiamo fatto una scelta specifica abbiamo pubblicato abbiamo pubblicato con Amazon direttamente bene quindi sia chi ha chi ha Prime lo ottiene subito in 24-48 ore ah chi ha Amazon Prime gli arriva in 24 ore il libro assolutamente lo stampano mi sembra che lo stampino qui in Piemonte e arriva subito ottimo ottimo bellissimo anzi magari chiedo anche chiedo anche a Edelweiss per cortesia può mettere magari in chat il link così le persone possono vederlo poi non so se c'è qualche domanda amici non so se c'è un'osservazione di Paola che saluto carissima Paola vedo che ci stai seguendo veramente tanto allora ognuno ha il suo cammino credo per vite passate per percorso in questa vita e ognuno di noi esplora ma la meraviglia è condividere hai detto bene perché ognuno dà il suo contributo quello il messaggio che proprio si vuole dare è proprio questo tante prospettive da angolature diverse e la condivisione perché poi ognuno porta la sua prospettiva Paolo Davide per caso sei riuscito a scoprire se dopo l'uscita di questo libro è nato un movimento scuola intorno alla figura della scrittrice guarda che io sappia no no perché questa questa signora non aveva un metodo da proporre lei semplicemente ha narrato le sue esperienze ha narrato le sue esperienze ha tenuto il diario delle sue esperienze per cui credo che la sua missione fosse quella di ispirare e di elevare e di dare la possibilità agli altri di valutare la possibilità che esistano queste dimensioni di cui lei parla ok allora c'è qualcuno che già ha fatto l'ordine che mi ha fregato Luciano perché devi sapere Davide che già hanno messo il link quindi evidentemente qualcuno già l'aveva adocchiato quindi c'è qualcuno che segue quindi hanno già inserito il link grazie Dorotea Dorotea Edelweiss ah ok dicevo che mi pareva perfetto grazie Edel e poi Luciano ha già fatto l'ordine allora Valerio chiede ciao Davide se dovessi fare una comparazione tra l'esperienza di Monroe e quella della Larsen come la potresti definire come si fa a comparare domanda da 6 milioni di dollari Valerio allora dunque ci sono dei punti di contatto permettimi di ampliare anche a Moen oltre che a Monroe certo dei defunti sicuramente è un argomento sì allora la Larsen parla chiaramente delle figure degli aiutanti di questi esseri che sono là nel mondo invisibile e che operano in aiuto a chi ne ha bisogno questo discorso viene narrato nel dettaglio nei tre libri di Bruce Moen Monroe non credo né accenni nei suoi libri ma nei corsi del Monroe in istituti avanzati si parla della figura degli aiutanti e anche nel film Nossolar quando André all'inizio del film lui chiede aiuto per uscire da quella sua situazione pesante in cui si trova arrivano tra essere vestiti di bianco con la barella ecco quelli nel linguaggio della Larsen nel linguaggio di Moen sono aiutanti a tutti gli effetti quindi la figura dell'aiutante è ancora una volta confermata a pieno titolo poi tu li chiama aiutanti proprio sì 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 aiutanti spiriti spiriti aiutanti sì 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 un'altra cosa importante è questa che non è banale è il primo resoconto che io leggo di questo tipo scritto da una donna ora Morro Moen Bulban anche col suo meraviglioso avventura nell'aldilà sono tutti uomini vero e qui in questo in questo libro c'è un tocco di cioè lei vede sente le cose in una maniera un po' diversa certo e le descrive in maniera diversa ad esempio come sono vestiti gli aiutanti ma io credo che Moen non ci avrebbe pensato mai di descrivere come sono vestiti gli aiutanti mentre la Larsen gli descrive quindi c'è c'è un tocco diverso poi ripeto ci sono alcune diversità sì ma io credo che sia un ulteriore stimolo per l'esplorazione non so Valerio se ti ho risposto e o se hai altre domande ok vedo che hai risposto ampiamente insomma allora ok allora in realtà questa doveva essere una diretta veloce veloce proprio per fare questo questo annuncio quindi non 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 diamo tantissimo spazio poi se c'è qualche domanda importante sì ecco Paolo dice la sensibilità femminile ha tutto un altro spessore non vedo l'ora di leggerlo grazie Paolo Valerio è tutta è tutta un'altra cosa tutta un'altra delicatezza un'altra sensibilità ok allora Edel Weiss dice vi ringraziamo per la fiducia che ci accordate nell'acquisto ci auguriamo che sarà per tutti una lettura piacevole ispirante e interessante quanto lo è stata per noi grazie Edel Weiss allora grazie Edel sì sicuramente è una lettura permettetemi questa espressione sfidante perché quando sono giunto al termine della terza o quarta rilettura mi sono domandato ma io a che punto sono nel mio piano evolutivo che cosa ho fatto oggi per la mia evoluzione e per quella delle persone che stanno intorno a me quindi certo che puoi dormire sugli allori che posso parlo per me stesso certo che posso dormire sugli allori ma il libro descrive chiaramente alcune esseri che hanno dormito sugli allori le difficoltà che possono anche incontrare quindi buona lettura fantastico allora c'è Enrico ciao Enrico dice io mi sono emozionato quando ho visto No Solar e adesso mi sono emozionato solo a sentire parlare Davide e ho proprio bisogno di uno simolo ulteriore in un periodo come ha detto Michele preso già l'ha preso insomma meno meno che già acquistando la raffiga allora allora sì sì allora preparatevi l'ho già detto ma lo ripeto preparatevi una lettura che sfiderà alcune vostre credenze che metterà alla prova alcune vostre alcune vostre convinzioni non è un libro che passa e dici sì se lo leggi con attenzione tu pensi che molte cose quindi non poteva dirle in quel periodo allora sì forse per il periodo perché Gian Morro Gian Morro che ha scritto il primo libro nel 70 71 ha dovuto aspettare praticamente dunque nel 71 aveva sì era quasi ora di andare in pensione per lui per cui non voleva avere nessun tipo di ripercussione negativa perché sai uno che dice esco dal corpo faccio le esperienze nell'America di fine anni 50 lo prendevano per mato a maggior ragione alla fine degli anni 20 posso immaginare questa Caroline de Lothar Hansen come stessa abbottonata nel dire nel condividere questo tipo di esperienze bene c'è qualche altra domanda commento allora Paola dice i medici del cielo li sento ormai con me Paola è medico e ho riacquistato forza dal nostro incontro a Roma amici grazie Paola so che ci sono e ciò che sento è proprio una grande centratura nella vita terrena con una presenza tangibile dei camici bianchi lunghi fino ai piedi che ho visto Paola un giorno raccontaci di questi medici del cielo sarebbe sarebbe bello sarebbe molto bello ti ho fatto questo in video l'ho buttata lì per lì così sarebbe bello sapere di più perché è una sento che hai molto da dire allora Paolo grazie sarebbe bello se a distanza di un po' di tempo si facesse un ulteriore live per discuterne i contenuti più approfonditi che ne pensate propone un'altra un'altra live vabbè e vediamo dai vediamo un po' vediamo vogliamo anche sentire voi poi se vi piace i commenti le recensioni e quindi piace poi piace dobbiamo anche sapere quello che ne pensate voi no? questo è importante io sto pensando anche di mettere in piedi un laboratorio teorico-pratico basato sui contenuti del libro No Solare e i miei viaggi nel mondo degli spiriti tutti e due è proprio un laboratorio teorico-pratico ma è ancora tutto è ancora tutto da vedere anche perché ci sono parallelismi e quindi è un argomento molto molto vasto in cui coincidono insomma tutte queste cose e si può creare qualche cosa di importante Valerio ci sono accenni nel libro riguardo i sistemi di credenze? Qualcosa sì li lascia intuire ma non entra non entra nel dettaglio come invece fa Mohen o Bulman in Avventura nell'aldilà però qualche accenno lo fa qualche accenno c'è sui sistemi di credenze diciamo generalizzati forse si intende dire proprio i territori dei sistemi di credenze allora sì ancora bisogna capire se non li ha diciamo non li ha esplorati nel dettaglio lei oppure se li ha esplorati ma ha ritenuto opportuno non parlarne diffusamente perché ripeto certo stava scrivendo 95 anni fa ha pubblicato sto libro quindi sapete oggi posso scrivere più o meno quello che voglio su qualsiasi sistema di credenze 95 anni fa nell'America nell'America di fine anni venti forse no ecco era più complicato assolutamente no vai a spiegare che è tutto frutto quello che vedi si crea poi dei territori in base alle vibrazioni alle frequenze a quello che credi esatto esatto diventa anche un discorso un po' complesso c'è ancora ecco c'è un insegnamento che non vi ho detto nel libro ma che non è non è una cosa nuova sia chiara però da tutte le esperienze che vengono narrate emerge con una potenza incredibile ed è questo la mia vita il mio futuro il mio progresso la mia evoluzione dipendono solo ed esclusivamente da me e da nessun altro questo è un pilastro che emerge dal libro cioè quando ci sono ci sono dei defunti racconta lei che sono in grande difficoltà le narra lei l'incontra ma si vede che sono proprio difficoltà per delle cose che probabilmente non hanno affrontato non hanno voluto affrontare e quindi li causano li causano delle delle difficoltà ecco ma quando poi riescono a superarle accedono a una a una luce a un potere a una luminosità a uno stato spirituale a una condizione più elevata ed è comunque frutto di un di un lavoro fatto da quelle stesse persone perché nessuno ti può aiutare no? quindi l'input deve essere sempre interno diciamo ma mai cioè io ti posso aiutare a a darti mezzi gli strumenti ma poi sei tu che ci devi lavorare quindi ecco anche questa cosa questo messaggio è bellissimo esattamente è un altro concetto di cui parla dopo non dopo non spoilerò più nessuno può aiutare chi non vuole essere aiutato chi non vuole essere aiutato nessuno io non posso salvare nessuno posso solo lavorare per migliorare il mio essere per risolvere le mie pietre d'inciampo i miei conflitti interiori i miei risentimenti i miei sensi di colpa gli odi la rabbia che posso provare dentro ma non posso cambiare nessuno nessuno questo è fondamentale assolutamente sì e allora Rachele chiede se conosci se conosciamo Franchezzo ne ho sentito parlare però non mi ricordo credo che sia un qualcosa datato pure no? sì ne ho sentito parlare forse anche qualcosa ma non l'ho ancora letto sì anche io non ho tante cose da leggere c'è un po' una pila di cose di libri ancora non si finisce mai più più ne sai e meno ne sai quindi non si arriva mai alla verità come tu hai detto solo a prospettive e a punti di vista ecco questa è una cosa importante quindi ci si arricchisce proprio quando si vedono tutti gli altri punti di vista e si riescono poi a integrarli soprattutto con la propria esperienza con l'esperienza personale Robertina dice questa è una delle più grandi verità della vita esattamente credo si riferisca forse al fatto di volere al libero arbitrio alle scelte personali Paola questa è la compassione Michele Nicola sarebbe bello unirsi e lavorare per quanto possibile per aiutare la natura assolutamente si Nicola Michele quello che stiamo cercando di fare è proprio quello di creare creare gruppi e come sapete è un lavoro che da anni ci stiamo occupando di questo è il messaggio che vogliamo è la nostra missione quella di cercare di agglomerare Rachele chiede ah ok quindi sempre rivolgendosi a franchezzo lui dice che l'astrale sia l'esatta immagine del mondo terreno ma ma diciamo che ci sono vari livelli della strada vari livelli ci sono le parti più terrene io infatti distinguo un po' sempre quella che è una hobbe cioè l'espensa extracorporea in prossimità e quella più lontana quella più remota dove vai a diciamo puoi indagare anche delle dimensioni più sottili che vanno oltre quelle terrene come anche c'è la parte più vicina più fisica più come se fosse il mondo proprio parallelo a quello fisico ok allora io direi stanno venendo fuori domande come funghi magari si possiamo poi fare anche un'altra diretta sicuramente perché no lo hanno proposto ascoltando anche quelle che sono le vostre opinioni su questo libro quindi cercheremo anche di portare delle domande cercare di rispondere magari alle domande e anche il vostro contributo con delle opinioni o delle recensioni questo è importante quindi sarebbe bello anche incontrarci di nuovo ciò non vuol dire che bisogna poi spoilerare questo è importante anche anche questo questa cosa qui allora Michi volevo aggiungere ancora una cosa che è questa l'ho già detto però è qualcosa di così potente che ci tengo a sottolinearlo nell'ultimo capitolo del libro viene c'è qualcosa viene descritto qualcosa che mi ha letteralmente sconvolto in positivo sia chiaro in positivo la mia postfazione descrive la mia comprensione e interpretazione di quel capitolo non è la verità è la mia verità questo deve essere assolutamente chiaro perché quello che dice l'autrice è il suo capitolo poi c'è quello che quello che io ho capito quello che io sento quello che io vivo ma è la mia prospettiva non è quello che ha detto l'autrice ok è qualcosa di rivoluzionario che non si trova scritto a parer mio da nessuna parte in quei termini però non dico altro va bene cattivone ho spoilerato fin troppo amici è vero capisco è anche difficile poi trattenersi quando il libro ti prende e soprattutto quando ti cambia io lo dico per esperienza nella mia vita ho letto tanti libri ma mi hanno cambiato ti fanno girare la mente in un modo diverso ti comincio ad avere a cambiare proprio prospettive questo è un libro che si legge tranquillamente in due ore e mezza tre ore l'hai letto l'hai letto tutto cioè scorre via in due ore e mezza tre ore l'ho finito bene ci sono altre domande ci sono? Sara dice scusatemi sono entrata tardi che libro è? dai ricominciavo da capo allora sì diciamo che io direi sì di chiudere qua più o meno abbiamo spiegato un po' tutto quanto poi ecco leggetelo perché poi chiaramente soltanto leggendolo potrete capire insomma di che cosa si tratta grazie Paola dice siete preziosi gemme preziosi ciò che amo è la vostra semplicità che tocca al cuore la vostra voglia di condividere perché voi avete e state sperimentando e di qui deriva la vostra chiarezza coinvolgente gentilissima Paola grazie di cuore e allora Valerio il concetto che quel che siamo qui ce lo portiamo di là viene evidenziato ultima ultima domanda proprio in assoluto dai quello che siamo qui viene si porta di là questo lo viene evidenziata questa cosa sì al cento per cento la morte non cambia ciò che siamo e chi siamo non lo cambia assolutamente e questo libro ne porta un'ulteriore testimonianza con estrema chiarezza fantastico perfetto Davide grazie ah ecco vi ricordo il nostro per chi vuole partecipare vi ricordo il nostro corso 11 e 12 febbraio viaggi astrali con Emisync in cui cerchiamo stiamo integrando con i nostri metodi personali abbiamo integrato quelle che sono le conoscenze di Raduga quindi del The Face Research Center con la tecnologia Emisync quindi è un qualcosa di assolutamente nuovo non lo trovate da nessuna parte e soprattutto è un'esperienza che si fa insieme perché sabato si parte sabato mattina e fino a domenica pomeriggio non la notte la notte se si dorme o se va bene si fanno anche viaggi astrali però il sabato dalle 9 alle 18 e 30 sia sabato che domenica ci saranno tante pause e si farà tanta tecnica tante tecniche insieme ascoltando gli Emisync quindi per chi vuole c'è ancora posto ci sono ancora tanti posti l'11 e 12 febbraio vi lasciamo poi il link per potervi iscrivere sarà bello incontrarci come ormai un corso che stiamo collaudando e già già è stato stra-collaudato e quindi già dal 2018 stiamo andando avanti con questo corso c'è tanta tanta richiesta ok saluti da parte di tutti quanti vedo qua tanti grazie e ci vediamo presto allora grazie amici grazie a tutti se avete qualsiasi domanda contattatemi tranquillamente esattamente ormai più o meno conosciamo Davide quindi scrivi grazie ciao a tutti buona serata